Le previsioni meteo per giovedì 29 agosto di Globus Television, la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, cielo sereno e po' più di nubi e isolate precipitazioni in montagna, temperature massime fino a 34 gradi, minime stazionarie, mari, mar Ionio mosso, mar Tirreno da poco mosso a quasi calmo, stretto di Sicilia poco mosso